Un giovane di 26 anni di origini maliane è stato investito in località Cioffi da un'auto in transito. L'automobilista, dopo l'impatto, è fuggito via, lasciando il ragazzo a terra ferito per fortuna in maniera non grave. Sul posto è immediato l'arrivo degli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito presso l'ospedale di Eboli. Il 26enne è stato dichiarato sin da subito fuori pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sempre nella giornata di sabato una donna di Santa Cecilia è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. Le sue condizioni sono gravi per via delle lesioni interne provocate dall'impatto.